Nonostante la forte vocazione turistica, il Comune di Montesilvane è uno dei pochi in Italia a non essere ancora dotato di tassa di soggiorno. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 2025, l'annuncio del Sindaco Ottavio De Martinis. Da anni in realtà si parla dell'introduzione della tassa di soggiorno, una tassa destinata a introitare delle risorse da investire poi sul turismo. Ma il percorso interrotto al periodo del Covid è stato ritardato proprio per favorire una promozione del territorio, una ripresa del tessuto turistico e oggi i tempi sono maturi per invece introdurre appunto questo balzello che io voglio considerare un'opportunità. Opportunità importante per le casse comunali visto che l'anno scorso le presenze alberghiere registrate sono state circa 600.000. La tassa di scopo nei prossimi giorni appoderà in Commissione e poi in Consiglio Comunale per l'approvazione finale. Da decidere con precisione la data di partenza e anche se individuare alcune fasce d'età esenti. Da fissare l'importo anche se un'idea c'è già. Io penso di attestarci sull'euro, l'euro e 50. Di più non andremo ma soprattutto vanno ragionati periodi e fasce d'età. Per quanto riguarda i periodi partirete comunque con la prossima estate, non prima? Sì, c'è un iter come dicevo, è prima della prossima primavera e non penso ci siano le condizioni per iniziare a godere di questa risorsa. Vediamo, è tutto in itinere. Io mi affido, come il resto è giusto che sia, anche al Consiglio Comunale che saprà trovare la strada giusta, la strada migliore. Un'ultima cosa, Sindaco. Dalle opposizioni pensa che arriverà qualche critica? In realtà no perché sia il centro-destra che il centro-sinistra hanno sempre convenuto, anzi, ancora più il centro-sinistra in passato, sull'opportunità dell'introduzione di questa tassa. Quindi ritengo che adesso bisogna fare un gioco di squadra perché c'è sinergia da questo punto di vista. Dobbiamo lavorare, come dicevo, insieme per trovare la formula migliore.